Colpo di scena nel processo per l'operazione Fort Knox, il maxi sequestro di ore con tanti operato dalla Guardia di Finanza di Arezzo che aveva scoperto un traffico illecito del prezioso metallo tra la provincia di Arezzo e la Svizzera. Il GIP Gianni Fruganti ha infatti rigettato quasi totalmente i patteggiamenti che erano stati concordati tra gli avvocati difensori di alcuni imputati e il pubblico ministero Marco Dioni. Venti le richieste di patteggiamento, di cui solo tre accettate dal giudice, riguardano il reato di ricettazione. In particolare rigettata la richiesta di patteggiamento di Andrea Squarcialupi, figlio del patron della Chimet Sergio, e di Michele Ascione, l'emissario retino di Petrit Camatà, considerato al vertice di questa ragnatela di scambi con la Svizzera. Ascione era la persona a cui risultava la disponibilità della villa di San Giovanni dei Mori nel comune di Marciano diventata dopo il blitz Fort Knox. Nell'ottobre del 2012 l'uomo fu scoperto dalla Guardia di Finanza mentre scambiava un milione e mezzo di euro con dei lingotti d'oro. Con il no ai patteggiamenti la villa rimane dunque sotto sequestro e vanno in fumo al momento anche le confische patrimoniali. Si annuncia dunque un maxiprocesso. 63 erano le persone a cui era stato recapitato l'avviso di chiusura indagini da parte del PM Dioni. A loro si aggiungeranno tutti gli imputati eccellenti a cui è stato negato il patteggiamento. Dunque circa 80 imputati con avvocati annessi. La scelta del PM di accettare i patteggiamenti era dettata probabilmente dal fatto di voler recuperare una bella cifra per lo Stato anche a costo di ammorbidire un bel po' le condanne. Il jeep a Fruganti non ha però accettato questa impostazione e dunque si va verso un processo affollatissimo per il quale forse bisognerà trovare un luogo per ospitare tutti questi protagonisti.